Paolo Paoli News, iscriviti al canale, mettete mi piace, non mi piace, condividete e commentate e seguite le pagine Facebook, ciao! Ciao a tutti amici, benvenuti nella prima puntata di... Top 5, oggi parleremo di Top 5, i migliori cartoni animati che mi piacciono veramente tanto, assai, i miei cartoni animati preferiti che sto guardando nei canali, po, Kiss, Italia 1, quelli che è, e oggi presentiamo tutti i 5 cartoni animati che mi piacciono di più in assoluto nella Top 5, non la Top 10, ma sempre, semprissimo la Top 5. Al quinto posto abbiamo i 44 gatti, io lo considero come migliore serie animata preferita italiana che parlano delle avventure di Buffy Cats, che se lo ricordate l'ho recensito quel cartone su Tessilone Show stagione 1 a recensire quel cartone. Sono i 40 contro gatti, più belli del mondo, polpetta, e un bel cartone animato italiano, c'è anche i posti di Selscub, l'asinello, ciuf ciuf, belli, bella animazione, bella animazione di scopo di B, e belli aspetti, bellissimo, bellissimo cartone animato. Al quarto posto abbiamo Dottor Panda, Dottor Panda, ciao ciao Dottor Panda, i cartoni, il cartone che ho recensito su Tessilone Show stagione 1 sempre, ma avete visto la puntata di Dottor Panda? E parla di Dottor Panda, più carino, assieme alla scimmietta, alla tartaruga, la tartaruga, Toto, Bip, Olette, tutti i suoi amici che risolvono ogni caso, i problemi che iniziano, iniziano a risolvere sempre i problemi, dato che ci siano i problemi, e mi piace molto la serie animata di Dottor Panda, che farò prossimamente sulla top 10 di Dottor Panda, prossimamente, top 5, Dottor Panda. Al terzo posto, Apple e Onion, è un, considero come un cartone animato, pelino, della Cartoon Network, più bello di Craig, Clarence, Mau Mau, più bello. Apple e Onion, una serie che parla di Apple, che è una mela, e Onion, una cipolla, che vivono nel palazzito di Farapel, bella serie, bella serie di Cartoon Network, che ho voto 9 su 10, o 10 su 10? 10 su 10, che parla di Apple e Onion, che assieme al Farapel, Apple e Onion, vivono sempre avventure, a me mi piace la serie animata, perché cantano, cantano le canzoni come le micro, come le intestate 2021, intestate 2020, quelle così, che ballano, che piglia la bottiglia, tanti canzoni belle. Al secondo posto abbiamo, Atutto Reality, il tour, la migliore stagione di Atutto Reality, che c'è, che parla di Chris McClain, Chef Hunchet, che hanno avuto un aereo, che adesso è già distrutto, che parla dei 18 concorrenti, Ezek, Alea, con i nuovi, con due nuovi concorrenti, Aleandro e Sierra, e il resto dei concorrenti, che c'è anche Duncan, Owen, Insei, Easy, tutti, sono, che parlano dei concorrenti, che sono, bellissimi, semplicemente bellissimi, che vanno in giro per il mondo, a trascondere il Montesvedio, molte avventure, che sono belle, mi piace molto Atutto Reality Tour, e lo guardo ogni estate, la terza stagione, per seguire la terza stagione di Atutto Reality, e Atutto Reality Tour, è la migliore stagione di Atutto Reality, mai visto prima d'ora? Dopo Atutto Reality l'origine, oh? Anche Ella mi piace Atutto Reality, anche a me, farò la recensione di Atutto Reality, su The Siglone Show, estate stagione 1, e al primo posto, come migliore cartone animato, più bello è, Spongebob, conosciuto come il miglior cartone animato della Nicherod, ha segnato la mia infanzia nel 2012, che, parla di Spongebob, assieme alla sua stella Marina Patrick, agli altri personaggi, Squiddy, insieme alle sue amiche avventure. Questo è il mio primo cartone che ho recestito su The Siglone Show, è un po' brutto, lo so, ma è più bello il cartone, ma è più bello l'eccezione lo stesso, che parla di una spugna marina che vive mille avventure, poi hanno fatto il film, poi hanno fatto i videogiochi, Spongebob amici in fuga, il mio film preferito di Spongebob, e Spongebob non si lascia mai la posizione, il più bel cartone e il più bel cartone animato visto in prima d'ora, è tutto bello? Mi piace il cartone e 10 su 10 lo meritasse, bel cartone Spongebob, bel cartone. Va bene ragazzi? Questa è la top 5 dei cartoni animati, Spongebob, Eppure Onio, Dr. Panda e 44 Gatti, li ho già decisi su The Siglone Show, mentre a tutto Reali, il tour, arriverà prossimamente su The Siglone Show, estate e stagione 1 come seconda puntata, e noi ci vediamo al prossimo video, con la prossima top 5, iscrivetevi al canale, mettete più mi piace, condividete e voglio più commenti grazie, e alla fine del video, c'è l'immagine ufficiale, in assoluto, in verità sto approfittando di mettere l'immagine ufficiale per sempre, ok? la playlist top 5 e il video precedente è la playlist top 5, e noi ci vediamo al prossimo video della top 5, ciao! tsch, 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 tsch! Grazie a tutti.